E buon Natale! Eccomi qua in veste elfo, ho ricevuto questa simpatica busta da Kuchiko Shikaku che seguo su Instagram e da cui ho ordinato alcuni regali di Natale che volevo condividere perché sono veramente dei prodotti molto belli, fatti a mano e soprattutto che sicuramente terrei nel mio natural shop virtuale e anche non solo virtuale. Cosa ho ordinato? Ho ordinato per la mia mamma, visto che legge molto, questo segnalibro non li apro per non rovinare il pacchettino, eccolo qua, così si vede meglio che ha già la matita incorporata, è tutto molto personalizzato, splendido, anche con l'etichetta di Kaku splendido, fa delle cose veramente finissime. Io poi sono veramente una fan sfegatata di queste fantasie in caso non si fosse ancora capito e quindi con me ha trovato terreno fertile, molto bello perché poi chi riceve regalo comunque trova una personalizzazione anche con il bigliettino, è una cosa veramente ad personam quasi. E poi ho ordinato per una coppia di amici che hanno veramente già tutto e quindi sono veramente difficili da, insomma, difficili da trovare qualcosa che non abbiano. Queste due tovagliette per la colazione sono molto belle, sono tra l'altro, ho potuto scegliere anche in tutti e due i casi ovviamente la fantasia che lei mi ha mandato diversi tipi di stoffe da vedere, una più bella dell'altra, devo dire, sono impazzita e appunto dentro sono foderate con una soffa monocroma, l'ho presa sulla stella, l'ho presa sulla sua marita e moglie, non l'ho presa uguale per non fargliele confondere, ma ho preso comunque due fantasie praticamente uguali ma con un colore diverso, per lei con un po' di verde perché è fissata con il verde. Spero che vi piaccia e spero proviate anche voi le creazioni di Kaku perché è una ragazza molto disponibile, molto gentile, fa delle cose veramente belle, seria direi, assolutamente. Tra l'altro si è fatta in quattro per farmi avere le cose prima di Natale, è una cosa che ho apprezzato davvero tantissimo, ho considerato il periodo e le difficoltà del periodo, e chi dire, comprate Made in Italy, comprate Handmade, buon Natale a tutti ancora, baci. Non mi faccio vedere perché sono malatissima e sono inguardabile, ciao!